E' lo spettacolo che chiude la trilogia dedicata al Desiderio dopo la dodicesima notte sempre del Bardo e il Satiricon di Petronio, entrambe produzioni di Agilef. Massimo Verdastro torna sul palcoscenico del Van Westeruth di Mola nella doppia veste di regista e attore con l'anteprima nazionale della sua traduzione del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare in calendario da questa sera fino al 4 novembre. Una riscrittura dove il Desiderio conserva i canoni di un sentimento sovversivo, fedele all'idea originale del drammaturgo inglese. Siamo in un bosco abitato da inquietanti figure dove i giovani protagonisti, transfughi dalla corte, scopriranno aspetti sconosciuti e profondi del loro sentire. Gli istinti primordiali e le pulsioni erotiche si manifesteranno senza controllo a causa dei prodigi magici messi in atto da Oberon, una sorta di gran burattinaio demiurgo. L'insopprimibile istinto capace di far compiere azioni moralmente inaccettabili dovrà essere però frenato e quindi Verdastro immagina lo svolgimento dell'azione teatrale in un altro luogo ben distinto come la città, separazione che invita a distinguere nel ritorno alla realtà ciò che è stato solo un sogno.